Una riqualificazione generale del parco e del castello Fienga interventi già partiti che continueranno per far sì che quella che è una struttura iconica della città di Nocera Inferiore torni a splendere come un tempo così come anche l'area circostante possa diventare ancora più una tappa imprescindibile per i visitatori che giungono nel nostro territorio il sindaco Maglio Torquato ha rimarcato l'impegno dell'amministrazione comunale per ridare lustro al parco e al castello Fienga Noi abbiamo fatto finalmente una ripulita definitiva dei locali del castello del parco che erano ingombri di varie cose tra suppellettili abbandonate in precedenza gli uffici della patto che occupavano per anni un'ala del parco Fienga e anche un'altra ala del castello del parco Fienga abbiamo liberato tutto, abbiamo riqualificato una parte del salone adesso abbiamo partecipato con altri fondi partecipiamo con altri fondi alla riqualificazione energetica quindi la nuova illuminazione c'è un progetto in corso di affidamento di lavori per i nuovi infissi le nuove strutture di arredamento della parte che già è in corso di riqualificazione dobbiamo utilizzare eventuali misure ministeriali con progettazioni dedicate per le parti antiche come sappiamo che c'è esigenza come ci viene segnalato anche da associazioni attente culturali al problema ricordo ridiamo vita al castello e come è segnale di attenzione di questa amministrazione allora noi abbiamo più punti sui quali intervenire che sono stati abbandonati nei decenni e che vanno recuperati a decoro e a dignità lo stiamo facendo alla villa comunale lo stiamo iniziando a fare per il castello del parco e anche altre realtà del nostro territorio meritevoli di attenzione resta il rimpianto della Tofano ma la Tofano vorrei ricordare a chi ci ascolta purtroppo non è nelle disponibilità materiali del comune è del ministero dei beni culturali ed è affidata alla sovrintendenza alla quale con qualche viaggio della speranza ogni tanto chiediamo di risvegliare la propria attenzione e soprattutto gli investimenti